non è niente, non è niente, ma io posso combattere con qui? ma perché questi 57 rasini mi voessero carregare a mio? ma perché mi voessero carregare questa cruce? ma perché mi voessero carregare questa cruce? tradizione, memoria, ma non è niente ma io ben amato, io veramente se arriviamo a volare ho vinto da un capo ho sparto, ho fatto diventare mille pezzuto, ecco da sotto ha tipo una pettita qui il duc che faccio, qui non ho ne so, qui sono a bocca di falco non ho ne so, ma ne so ma che fai? no no, ma perchè è pevata così? ma qui nel posto che possiamo fare il bisogno? ma stanotte in parte non c'è un mattino, un giurista non sapevano le racine, non sapevano le melone giallo che è certo padrono mio vassio vassio diventare la prosta infiammata ma come facciamo un'altra ora a fare questo viaggio ma io perciò mi sottamise a domandare per piacere il favore stavamo contenti a fare il viaggio e poi da quel aereo se ne venne ma che a dire a fare la guerra di due nuove per tutto il mio ma che a fare quella che se ne venne il caravanto o caccia per tutto il mio ma che ne venne a Palermo per combattere pure con Bassia ma io non potevo stare al paese a combattere quei giorni che ci combatto tutti i giorni non potevo stare al paese ma a me come ci portava a mettere ora avanti ma come ci portava meglio che questo l'aereo passiamo a cuciuristi per venire qua ma poi ho bisogno qua sotto l'aereo lo vabbiamo a fare che si sforzi ma io lo vedo che passiamo a raggiungerla no passiamo oggi una cosa che vuoi fare un viaggio con me no faccio che sapessi a caccare da un capo in all'aria no 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 a sapere come fare fare male la figura qui come andando a palazzolo ci sono i sacchietelli per lanciare se avevi bisogno di lanciare se ma no per cacare non c'è niente faccio io e manco può caccare un sacchietello padrone mio perché poi viaggio a me a fare un compagnia delle cose che passiamo non ci servono più e non c'erano un sacchietello no 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 non esiste padrone mio io è stato arrogato è stato permissivo e vabbè a voglia a voglia perché mi ricordo da buonarmuzzo la nonna e mia madre che diceva sempre la seconda parola che diceva appena c'era antichia che uno si arrabbionava a voglia la madre ci faceva che da voglia ma da buonarmuzzo la nonna paolo poteva capire mai che questa voglia che passiamo non funziona picchiavi che dico voglia 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 ma va sia mi sta portando alle sceme ora se vuole muovere se vuole stare ste mutande ora se vale mutande non ce ne esce stanotte va a cagare con i pantaloni esate ma ma come ci porta corpo di sale pure a mia ma come ci porta a pigliare ste imprese allora